salve sono mattia e oggi sono pronto per voglio vedere come gioco a rally pronti? bene a proposito questa non è una video di sessione è un po' di zimpiante perchè a me è un po' di zimpiante è un po' di zimpiante questa è come la capisci due aiuto bene cominciamo finchè l'auto va la zana andare non lanciala eh iniziamo aspettate che mettiamo la visione vai 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 quattro destra e tre sinistra e tre sinistra e tre destra lunga si indirizzo attenzione due sinistra tre cento dopo la cosa è brutta di me in quell'auto è stato fatto qua guarda cinque destra tre cento cinque sinistra sei destra tre cento oltre edifici sei destra oltre edosso scivoloso in cinque sinistra due cento quattro destra lunga si trince così può ancora vincere ma ci sono danni alle sospensioni c'è sei sinistra lunga c'è quattro destra lunga si trince e quattro sinistra d'accordo due destra scivoloso sei destra e sei sinistra e tre sinistra lunga e tre destra molto lunga non ci siamo proprio oh no c'è un basto al motore e tre sinistra quattro destra 60 sospensioni abbiamo danneggiato la trasmissione cinque destra sei sinistra lunga non ce la faremo mai a riprenderli duecento sei destra gaudera in tre sinistra scivoloso duecento quattro destra e ovviamente nel gioco più forse del gioco mai nei giorni che è un po' di soltanto però un gioco come dite questo non lo so guidare non lo so gli ostacoli ma comunque con il rally un po' molto specializzato adesso ve lo voglio un po' così cazzo che stai facendo? ecco come sinistra sei destra sei destra sinistra sei sinistra sei destra sei duecento tieniti a sinistra ti autentano tre destra lunga oltre edifici tre sinistra lunga si finge Oh dai, questo è proprio un po' bene Oh la macchina Bene, avete visto questa prova di guida Bene, arrivederci al prossimo video Che sarà Oh, Metal Gear Solid 2 Oppure Sarà Tentutra Arrivederci